Lo aspettavo tantissimo, sono felice di essere riuscito a finalmente aiutare la squadra. Abbiamo fatto una bella partita, una partita difficile contro una squadra tosta, però alla fine quello che importa è che abbiamo portato a casa i tre punti. Ha fatto un'azione incredibile, mi ha messo un cioccolatino, come si vuol dire, mi toccherà offrirgli una cena questa settimana. Sì, abbiamo giocato magari una partita un po' più sporca, però ci siamo adattati. C'erano difficoltà perché loro, seppur in difficoltà, però con caratteristiche individuali importanti e ci potevano mettere in difficoltà, siamo stati bravi a portare a casa i tre punti. Sì, è vero, assolutamente. Magari ci siamo allungati un pochino, però abbiamo superato quel momento di difficoltà, poi siamo riusciti anche a chiudere la partita sul 2-0. Sono momenti della partita e siamo stati bravi a tenere duro. Io ringrazio il mister, ma penso solamente ad allenarmi, ho tanto da migliorare. Il mio obiettivo è di pensare nel presente, di guardare giorno dopo giorno e di aiutare la squadra. Pensiamo ora a preparare la partita di Venezia, che sicuramente sarà difficilissima. È una dedica che volevo fare alla mia famiglia, alla mia ragazza, che mi stanno sempre vicini e il gol è per loro e per i miei compagni.